Salve a tutti, qui Gianluca Drubertis, direttore allo studio 4 di Giambellino. Sto per suonare un pezzo che si chiama Labra Cadabra, sto per farlo, mi assumo la responsabilità di una persona. C'è un posto che ti fotte, nel cuore del cervello della gotte, noi due ci siamo stati, a guance rossi e peni cucciacchiati, rari, quadri imbarazzanti, ogni cranio dice sempre amanti, ci siamo inerplicati, macchetti bianchissimi, navidati, Labra Cadabra, lascia la bocca, Labra Cadabra, scatola sa cosa, bacio di cobra, Labra Cadabra, lascia la bocca, Labra Cadabra. C'è un gatto neofordo, io me lo dito di bianco smarto, non vuono né savero, cammina su il cervello del cervello, la spina nel fianco della canna, dal fianco posto pionda e scatola, in meia troia, bacio di cobra, Labra Cadabra, lascia la bocca, Labra Cadabra, scatola sa cosa, facio di cobra, Labra Cadabra, lascia la bocca, Labra Cadabra. C'è al centro Margherita, la bianca è subita, che è stregazellata, ci ha un culo tra le dita, come una cosa, la bianca è subita da putta, c'è satana passente, come un genito nantes, sulle sentita demente, con il tacchiatore, il gente stige, Labra Cadabra, lascia la bocca, Labra Cadabra, Labra Cadabra, scatola sa cosa, bacio di cobra, Labra Cadabra, lascia la bocca, Labra Cadabra, lascia la bocca, Labra Cadabra. salto in banco, con sigaro cupano, con l'emano nel petto, pan che è già indiavolato con la mano, la flore schiavizzante, la capa, la pesti ferata e niente, c'è tutto un grado a fare, che il cibo fa non c'è da fare niente, mentre labbra cadabra, facciamo un calacabra, la capa, 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 Ciao a tutti, sono Margherita e questa è una delle interviste Lampo che abbiamo per Music Folletto. Allora, iniziamo. Caffè amaro o decaffeinato? Amaro, ma non ne bevo più amare. Le stringhe, quelle delle scarpe o di Brian Greene? Quelle di Brian Greene, per forza, poi io non ho le scarpe stringate, è raro che le apri. Cosa c'è sotto la gonna di Amanda Lear? Ma immagino che ci sia tutta una serie di attrezzi atti alla riproduzione. Qual è stata la tua prima magnifica notte? Ma io non me ne ricordo. Alla sera, porno o discoteca? Beh, discoteca porno. C'è qualcosa che hai sognato di fare e non hai ancora fatto? Ma sì, forse sì, però non è una cosa che sogno ricordare, ecco. Un sogno di ricordarmelo, ecco, a questo momento. Al cinema, pop-corn o patatine? No, non è pop-corn o patatine, niente. L'astinezza. Cosa è troppo serio per scherzarci su? Cosa è troppo serio per scherzarci su? Niente. Descrivi il tuo giorno perfetto. Descrivi il tuo giorno perfetto. Anche là non ci sono giorni perfetti, non ci sono magnifiche notti, non ci sono giorni perfetti. Ci sono dei brevissimi istanti, decenti. Ci sono delle cose inaccettabili, passabili. Labracadabra, filastrocca o incantesimo? No, è una filastrocca che parla anche di un incantesimo, di un incantesimo che hanno a che fare con l'erotismo, con la ossuria anche in qualche modo. Ok, ultimissima. Sei un genio sempre o solo dal tramonto all'album? Anche lì a sprazi, quando la vita diventa accettabile, in piccoli momenti.